Accuse pesanti quelle contestate al luogotenente dei carabinieri Gianfranco Antonuccio in servizio al reparto operativo di Licata, arrestato questa mattina dai militari del ROS perché avrebbe fatto dei favori a una donna e un uomo, arrestati a loro volta in cambio di denaro e fornito informazioni alla donna sul conto del figlio. Induzione a consegnare denaro e rivelazione di notizie riservate le accuse contestate al momento dai magistrati della DDA di Palermo, che hanno coordinato l'inchiesta. Gli inquirenti stanno anche vagliando alcune dichiarazioni dell'ex avvocato Angela Porcello, arrestata nel corso del blitz antimafia Xidi, la quale aveva affermato che Antonuccio aveva chiesto 1.500 euro al proprio compagno, il boss Giancarlo Bugea, per evitare dei controlli. Le dichiarazioni dell'ex avvocato però non sono ancora state ritenute attendibili.